cinturone austriaco ex ordinanza originale esercito austriaco alla caratteristica aquila austriaca riportata sulla fibbia in tecnopolimero due ganci due fermi materiale plastico molto resistente che bloccano le parti amovibili regolabili tramite questo gancetto che viene agganciato ai fori per regolarlo alla misura desiderata molto solido molto resistente cordura di ottimo livello spesso troviamo sui cinturoni dei lacci aggiuntivi montati dai militari sono stati lasciati al loro posto in alcuni casi saranno presenti in altri no la fibbia non è particolarmente comoda per sganciarla ci vuole molta forza ma dalla sicurezza che una volta agganciata difficilmente si potrà aprire accidentalmente